Cerere sulla testa, acqua sui piedi. Don Antonio Bello raccontava così la quaresima dicendo che è vero che sembra essere un percorso breve, o meno di due metri, in realtà è molto faticoso perché parte dalla nostra testa per arrivare ai piedi dell'altro. Questo è un percorso che vogliamo vivere insieme, e allora un po' come abbiamo vissuto già nel tempo di avvento, anche adesso vogliamo riproporvi del pillo del quotidiano, piccoli momenti di riflessione sulla parola di Dio e che vi arriveranno o che troverete sul canale YouTube Vieni e Vedi. Vi aspettiamo per vivere insieme questa quaresima ma soprattutto per prepararci alla Pasqua di Ressurrezione.